Il NICO è l'Istituto di Neuroscienze della Fondazione Cavaliere Ottolenghi, è un centro ricerca che si trova ad Orbassano ed è diretto dal professor Vercelli. È un centro in cui dieci gruppi si occupano di studiare il sistema nervoso. È uno studio che possiamo definire una ricerca di base, nel senso che siamo interessati a comprendere quelli che sono i meccanismi che portano per esempio allo sviluppo del cervello, lo sviluppo del sistema nervoso, a comprendere i meccanismi che sono alla base di alcune patologie neurodegenerative che quindi colpiscono il sistema nervoso e per le quali magari non c'è ancora cura. Quindi facciamo questa ricerca di base che però cerca di puntare anche a un qualcosa di applicativo, una sorta di ricerca applicata proprio per una volta compresi questi meccanismi cercare di sfruttarli per sviluppare anche degli approcci terapeutici. L'importanza del NICO, una caratteristica del NICO è quella appunto di essere interdisciplinare. Perché questo è importante? Sì, ha ragione, è molto importante. Siamo infatti dieci gruppi e ognuno ha un po' le sue expertise, come si suol dire, quindi ha delle conoscenze più in un certo ambito che nell'altro e diciamo siamo in grado così di complementarci in un certo senso. L'ambiente stesso ci fa interagire molto e per fortuna siamo anche un istituto con una strumentazione all'avanguardia. Quindi la multidisciplinarietà che riusciamo a garantire grazie a queste diverse expertise dei vari gruppi è sicuramente un valore aggiunto che può dare alle nostre ricerche e ai nostri studi. E perché è importante appunto oltre a fare ricerca anche provare a spiegarla e a raccontarla e fate molte iniziative anche proprio di divulgazione in questo senso? Sì, ha ragione. Noi cerchiamo proprio di non limitarci solo a stare chiusi nel nostro laboratorio, a fare i nostri esperimenti, a pubblicarli su riviste scientifiche specializzate, ma ci teniamo molto anche a divulgarle quindi al grande pubblico. È un aspetto a cui teniamo molto. Da sempre organizziamo per esempio degli eventi porte aperte, quindi dove invitiamo chi è interessato a visitare i nostri laboratori e a conoscere dalle nostre bocche quelle che sono le nostre ricerche. Inoltre organizziamo anche tutta una serie di eventi nell'ambito di varie eventi, manifestazioni che sono anche di carattere nazionale piuttosto che internazionale. Per esempio da sempre partecipiamo come NICO e anche come Dipartimento di Neuroscienze che mi riguarda alla settimana del cervello, quindi con una serie di eventi, caffè scientifici in cui esperti raccontano un po' della funzione del cervello in determinati ambiti, ogni anno il tema è diverso. Partecipiamo anche a eventi di divulgazione rivolti in particolar modo ai ragazzi, quindi io in particolare mi occupo dell'organizzazione della fase regionale delle Olimpiadi di Neuroscienze e inoltre ci sono anche altri eventi come per esempio l'UniStem Day che è organizzato dalla professoressa Buffo e che è una giornata che si svolge in tutto il mondo nello stesso giorno dedicata proprio alla divulgazione della tematica relativa all'uso delle cellule staminali, nel nostro caso in particolare nell'ambito sempre delle neuroscienze, di nuovo rivolta ai ragazzi per sensibilizzarli insomma alla tematica.